Gentili telespettatori, buona giornata. E così, Elina, detta Elislein, dice non è un tabù ma va fatta bene. Ha in mente una soluzione a tutte le sue fantomatiche proposte che ha appunto raccontato nei vari programmi televisivi, sui giornali, perché lei ha sempre una soluzione. Soluzione molto banale, ad esempio, mancano i medici? Lei risponde, eh li assumiamo. Mancano gli infermieri? Eh li assumiamo. Mancano i soldi? Eh li troviamo. Ecco, li troviamo, li assumiamo. Alla risposta dove prendi i soldi? Lei non ha mai saputo rispondere. Eh li prendiamo lì, là, da qualche parte, in quel modo, ma non ha mai chiarito dove li prende. Adesso, visto che insistentemente le hanno chiesto dove le prende, lei ha risposto, eh sì, facciamo una nuova tassa, ma fatta bene. Una patrimoniale per i miliardari. Quindi una patrimoniale che va dalla patrimoniale cos'è? Un'ulteriore tassa che colpisce i soldi che sono il netto dopo aver già pagato delle tasse. Quindi la patrimoniale è una seconda tassa su soldi già tassati. La patrimoniale significa tu ne hai tanti, dammene ancora. Ecco, dammene ancora. Quindi lei vorrebbe fare questa patrimoniale verso i miliardari, per intenderci Ferrero, Berlusconi, tutti quelli che hanno non i milioni ma i miliardi. E così prendere i soldi da lì, da loro, per darli agli altri, a chi ne ha meno. Beh, oggi Schlein ha il problema di Conte, Renzi, il campo largo che non esiste più, forse non è mai esistito. E così lei tira fuori la solita patrimoniale. Quando a sinistra non sanno dove prendere i soldi, tirano fuori la patrimoniale. Cioè prendiamo i soldi da chi ne ha tanti. E aggiunge che la patrimoniale non è un tabù, ma dobbiamo farla bene. Ecco, quindi non una patrimoniale per chi ha un milione di euro, la patrimoniale per chi ha i miliardi. Elli sa bene che questo è un cavallo di battaglia di un altro suo alleato, Nicola Fratoianni e di Bonelli, che ogni volta che vengono intervistati tirano fuori la patrimoniale, come la medicina che risolve qualsiasi problema. Quindi contro qualsiasi cosa c'è la patrimoniale. Convinti che tassare la ricchezza che è stata già tassata delle persone fisiche migliorerà istantaneamente i problemi dell'economia. E così la Schlein prova a far su a questa proposta. e dice così. Al G20, per iniziativa del presidente brasiliano Lula, ne hanno discusso, dice la Capa, hanno discusso di un'iniziativa che riguarda i miliardari, una tassazione internazionale o quantomeno europea. Ma cosa c'entra Lula, presidente brasiliano, con una tassazione europea? Non si sa. Per la segretaria Dem, con l'attuale governo in Italia, i sacrifici li stanno facendo pagare ai soliti, a chi vengono prelevati i soldi in busta paga e ai poveri. Il sistema fiscale italiano è iniquo, complesso e altri paesi europei hanno sistemi molto più semplici. Il principio del sistema fiscale, ha proseguito Schlein, deve essere quello dell'equità orizzontale. Tanto guadagni, tanto paghi. Che è il contrario di come la destra di Meloni sta affrontando la materia fiscale, che non è vero. La tassazione in Italia è esattamente uguale alla tassazione degli altri paesi. Ci sono delle percentuali diverse, ma i meccanismi sono esattamente gli stessi, dove più guadagni più paghi alla fine. Perché chi guadagna un milione paga più di quello che guadagna 900.000, quindi si paga di più. Naturalmente l'aliquota massima oggi cos'è? Il 43%. Pertanto uno che guadagna un milione paga il 43% massimo, uno che guadagna 10 miliardi paga il 43% massimo. Pertanto l'aliquota si ferma a un certo punto. Se si vuole mettere mano a questo, bisognerebbe arrivare fino all'80-90% di tasse, dire se tu guadagni più di un milione paghi il 48%, tra 1 e 10 milioni paghi il 49%, tra 10 milioni e 50 paghi il 52%, fino ad arrivare a chi guadagna miliardi e gli fai pagare l'80%. Tu guadagni i miliardi mi paghi l'80% di tasse. Ovviamente se fai una cosa del genere, i miliardari poi vanno negli altri paesi, lasciano l'Italia e vanno a produrre da un'altra parte. E quindi il tuo 80% non lo vedi più. Anzi, perdi miliardari con le loro aziende, dipendenti, disoccupazione, eccetera eccetera. Quindi non è così sempliciotta la cosa come dice la Schlein. Più guadagni più paghi, paghi delle tasse più alte, fai le patrimoniali. In passato la sinistra l'ha già fatta, le patrimoniali. Se non sbaglio, Amato, di notte aveva prelevato sul conto corrente degli italiani i soldi. Aveva fatto così. Di notte aveva dato ordine di prelevare sui conti correnti degli italiani i soldi. Adesso non mi ricordo quanto era, ma ha fatto così. Di nascosto di notte. Tu il giorno dopo non ti sei trovato più i soldi in banca. Ecco. E così la sinistra sistema le cose prelevando i soldi nelle tasche delle persone. Persone che quei soldi erano già tassati. Quindi lo Stato ti va a prendere soldi che sono stati già tassati, che sono il netto dopo una tassazione. E te li va a prendere di nuovo. Ecco. Quindi la Schlein oggi pensa a una patrimoniale fatta bene. Ecco. Si chiamano i prelievi forzosi, quelli fatti di nascosto di notte. E così Fratoianni e Conte hanno rotto con il pretesto della presenza di Renzi in coalizione. La Schlein non cerca di schivare le domande sul Campolargo. Lo fa dicendo che lei di Campolargo non ne sa niente, non ha mai parlato di Campolargo. Eventualmente si può parlare di una coalizione progressista, ma lei Campolargo non l'ha mai neanche pronunciato. Come se oggi per lei non esistesse. Bene. Come se cambiando poi un aggettivo la sostanza diventasse un'altra, come per magia. Lei dice Campolargo è un'espressione che non ho utilizzato neanch'io. Mi interessa una coalizione progressista. Noi abbiamo lavorato con il Movimento 5 Stelle e con AVS, ma da soli non bastiamo. E poi a questo punto il gelo fra Conte Schlein sulla scalinata della Corte di Cassazione in occasione della consegna delle firme per la legge sulla cittadinanza. La manifestazione da separati in piazza, al posto che separati in casa, separati in piazza. Grazie a tutti e arrivederci. A presto.